Una delle bellezze del lago di Como è la Villa Carlotta, una superba costruzione del 1700, oggi di proprietà dello Stato. Essa ha un magnifico parco dove fioriscono superbamente a Zalè e Rododendri. Nell'interno di essa sono contenuti capolavori di pittori e di scultori in segni. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS